Grande presenza di campioni da tutto il mondo agli internazionali, tennis, tour e l'Ovo Abruzzo che fino a domenica sarà di scena al Roseto degli Abruzzi. Oggi si sono svolti i quarti di finale del singolare maschile e le semifinali del doppio. Purtroppo nessuno degli italiani nel singolare è passato alla fase successiva, mentre per il doppio buone notizie. Dietro la direzione organizzativa di Luca del Federico il torneo si è confermato anche per questo 2023 come il più prestigioso appuntamento tennistico in Regione, anticipando in Italia i tornei sulla Terra Rossa che porteranno agli internazionali di Roma con inizio 8 maggio. La terza edizione, come l'anno scorso partiamo da Roseto, poi ci saranno Chieti, Pescara, Rezzano e un po' il coinvolgimento di tutto il territorio, di tutta la Regione. E' stata una settimana dove sono state tante le presenze da fuori, basti dire che c'è stata una giocatrice belga 80 al mondo, Isal in Bonaventure, che è venuta a allenarsi qui una settimana, è stata con il team prima di andare a Madrid, sono stati qui ad allenarsi. Oggi c'è un mental coach che è venuto da Pisa, c'è per dire anche presenze qualificate per il nostro torneo e quindi questo evidenzia anche la bontà della formula e il risultato di questa settimana, perché l'anno scorso avevamo le due settimane di marzo, ho voluto fortemente spostare a fine aprile, in questa settimana dove si prendono gli ultimi punti per qualificarsi a Roland-Garrot. Presidente, un plauso va fatto anche alle scuole che vi hanno dato una mano e hanno preso parte a questo importante progetto. Certo, per il secondo anno consecutivo, devo ringraziare i direttori didattici e i presidi delle scuole, perché oltre a fornirci i ragazzi, i ball kids, ci danno una mano nell'organizzazione, hanno fatto eventi, hanno portato i ragazzi ad assist, quindi ci aiutano nell'opera di promozione e propaganda, quindi li voglio ringraziare pubblicamente. Presente è anche Jacopo Berrettini, fratello del noto campione Matteo, uscito nel singolare ma che ha raggiunto nel doppio con Andrea Pellegrino la finale, che si svolgerà domani alle ore 12. Domani abbiamo la finale di doppio, quindi sicuramente è una settimana che finché si arriva in fondo, in qualsiasi competizione va bene. Il singolo sicuramente ha potuto fare un po' meglio, mi sono qualificato, poi il primo turno sicuramente non è stato dei migliori, però comunque un'altra settimana abbastanza buona, quindi sono abbastanza contento del livello espresso. Com'è stato fratello? Purtroppo non benissimo, sta cercando di recuperare, non sta nelle migliori condizioni, però purtroppo è sempre stato abituato a fermarsi e recuperare, è molto forte sia dentro che come tennista, soprattutto come persona, quindi recupererà la grande anche questa volta e lo aspettiamo.